Migrare non è un dolce peregrinare in comunione, è spesso un dramma. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza nei giorni scorsi gli scalabriniani che si occupano in tutto il mondo di assistere e integrare i migranti. Per il Santo Padre ciascuno ha diritto a migrare, così a maggior ragione ha diritto a poter rimanere nella propria terra e a viverci in modo pacifico e dignitoso. Citando il Salmo che parla di coloro che arrivano con cavalli, carri, portantine, muli e dromedari, Francesco ha suggerito che potremmo aggiungere oggi barconi, tir e carrette del mare. La destinazione per il Pontefice resta la stessa, Gerusalemme, la città della pace, che come definita nella Bibbia è la chiesa, casa di tutti i popoli dove la vita di ognuno è sacra e preziosa. Per Scalabrini ha ricordato questa Gerusalemme è la chiesa cattolica, cioè universale perché madre, perché città aperta a chiunque cerca una casa e un porto sicuro. La tragedia delle migrazioni, forzosamente causate da guerre, carestie, povertà e disagi ambientali, è oggi sotto gli occhi di tutti, ha ribadito il Pontefice chiedendo ai religiosi di continuare a diffondere una mentalità della vicinanza, della cura e dell'accoglienza e a far crescere nel mondo, secondo le parole di San Paolo VI, la civiltà dell'amore.